L'impegno c'è e ci sarà. Il primo amore non si scorda mai, la regina non si scorda mai, per mimo pratico e famiglia. Il numero uno amaranto, seppur confermando il proprio contributo per il raggiungimento delle migliori sorte del club in riva allo stretto, si dice disponibile a cedere le quote societarie in suo possesso. In polemica con una parte della tifoseria il presidente potrebbe lasciare ad altri la gestione di un club che mai come ad oggi appare avvolto da un grosso punto interrogativo. Dall'addio praticamente ufficiale di Zeeman a quello paventato di Martino in seno al club amaranto regna l'incertezza totale. Impossibile oggi ipotizzare le mosse future della regina che sarà. Di sicuro la squadra sarà iscritta al prossimo campionato di Serie C, poi si discuterà di altro, con o senza mimo pratico, che nel frattempo tuttavia stando a radiomercato avrebbe già lanciato un messaggio a Massimo Mariotto, vecchia Gloria Maranto ed ex DS della Vibonese, per affidargli la costruzione del gruppo, staff tecnico compreso, che prenderà parte al nuovo torneo, alle sue buon passo per la Cineus 24.